i medici per poterizzare i capillari, luce eccetera eccetera e sulla pelle fanno piccole macchie e poi se ne vanno via con la stoicatura andiamo al lavoro è molto pericoloso per gli occhi gli occhi causano la cecità quindi avvicinatevi, guardate sensibilizza qualsiasi cosa è organica stavo contento per cui arrivare al lavoro, guardarci allo specchio e trovarci un segno nero eustice la metto qui pulita e poi esco alla sole dove l'ho toccato non lo so perchè non la prendo così non succede questo per il resto è soprattutto abbastanza sicuro questo lo lasciamo nel contatto 45 minuti